Uva fragola pronta per fare la marmellata. Oggi preparo un pezzo di coniglio imbottito, ecco qua, questa è la parte del coniglio e la pancetta. L'interiore, fegato, polmoni, reni, vengono tagliuzzati, in questo modo si mette il pane raffermo, il prezzemolo, l'aglio, il formaggio grattugiato, ecco qua, l'aglio, il pane raffermo, e il prezzemolo. Adesso si aggiungono le uova, si amalgama bene il tutto, ecco qua, le uova sono quelle della nonna, belle paesane. Ecco qua. Grazie. Grazie. Si amalgama bene il tutto, così, e si viene in via. Se resta un pochino, si aggiungono altre due briciole di pane, si amalgama bene, e si fanno due polpettine. Adesso questo, ecco qua, viene cucito, poi viene... Avevo preparato già il filo, ecco qua. Viene cucito, viene... Viene cucito. 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 Viene rosolato in una pentola a tutti i lati, si aggiunge il pomodoro e un po' di salsa, il coniglio si utilizza come secondo e il sugo come condimento della pasta. Ecco qua, abbiamo un buon profumo. Grazie.